Ferrovie dello Stato investirà oltre 16 miliardi in Calabria, il polo urbano valorizzerà più di 600 mila metri quadri di aria nella regione, un piano che prevede oltre 190 miliardi di investimenti e un nuovo assetto organizzativo che aggrega le società controllate di Ferrovie dello Stato in quattro poli, infrastrutture, passeggeri, logistiche e urbano. Una rivoluzione che interesserà anche la Calabria grazie a un investimento complessivo di 16,689 miliardi di euro che disegneranno nella regione, un rinnovato scenario di mobilità ferroviaria e stradale all'insegna dell'incornezione e della sostenibilità con l'obiettivo di rendere le infrastrutture più accessibili, integrate efficacemente fra loro e resilienti incrementandone la dotazione anche per ridurre il gap tra nord e stradale. La maggior parte di questo imponente investimento, 15,28 miliardi di euro, è destinata al polo infrastrutturale, 8,8 miliardi per le infrastrutture ferroviarie, 6,48 miliardi. Invece sono le risorse destinate alle opere stradali, investimenti destinati dal lato ferroviario alla realizzazione dell'alta velocità Salerno-Reggio, al potenziamento e all'elettrificazione della linea ionica e della dorsale La Mezza Terme Catanzaro-Lido, ai collegamenti con il porto di Gioia Tauro alla statale 106, in particolare per il megalotto 3, l'adeguamento da Sibera a Crotone e la Catanzaro a Crotone, per alcuni miglioramenti funzionali della 2 e al completamento della strada statale 182 tra la sversale delle serre, per quanto riguarda invece le risorse per le infrastrutture stradali. Sono 309 milioni di euro destinati al polo passeggeri che si tradurranno in 29 nuovi treni Pop, Blues e Intercity, e nuovi servizi, fra cui il miglioramento del servizio metropolitano nell'area di Reggio Calabria e la velocizzazione dei treni Intercity sulla linea ionica fra Reggio Calabria e Taranto, Novità anche per il polo urbano, che valorizzerà circa 600 mila metri quattri di aria in Calabria, per un valore pari a 1,1 miliardi di euro. I principali progetti riguardano i territori di Reggio Calabria, Cosenza e Montebello Ionico. Infine, per il polo logistica è previsto il potenziamento e lo sviluppo di nuovi collegamenti. I servizi intermodali legati al traghiettamento nello stretto di Messina passeranno dagli attuali 1,3 milioni di euro a circa 4,1 milioni nel 2031, equivalente a circa 276 treni l'anno.